In Campania un bambino su tre è sovrappeso, uno su cinque è obeso. La causa principale è lo stile di vita scorretto acquisito durante la crescita e in primo luogo un'alimentazione inappropriata. Negli adulti il problema si aggrava con le abitudini sedentarie. Secondo una ricerca dell'ASL Napoli 1, il 90% dei napoletani non fa un'attività fisica adeguata ed è disabituato all'idea di camminare per spostarsi. Il comune di Napoli ha deciso la sfida più difficile da due anni a questa parte che è quella di una educazione alla salute per i cittadini napoletani malgrado Napoli, malgrado il pregresso, malgrado a volte le difficoltà che si incontrano a gestire un territorio che ne ha viste tante. La collaborazione con l'ASL Napoli 1 è stata sin dall'inizio molto fattiva tant'è che noi abbiamo completamente rinnovato le diete della rifezione scolastica, abbiamo iniziato una lotta all'obesità perché purtroppo siamo maglia nera dell'obesità infantile e vogliamo assolutamente invertire questo trend. Ci siamo cioè mossi nella direzione di coniugare educazione alla salute, educazione motoria, educazione alimentare e tutte le forme di sensibilizzazione all'educazione dei minori che possono veicolare indirettamente anche dei messaggi positivi ai più grandi. I progetti educativi Quadrifoglio ed Ecolandia puntano a educare i giovani a una corretta alimentazione e a una sana attività fisica ma anche a un'igiene orale regolare e a non fumare. Alle scuole primarie e secondarie che aderiscono gratuitamente ai progetti viene assicurata la formazione per gli insegnanti e i materiali pedagogici. Siamo al sedicesimo anno di questo progetto Quadrifoglio che è una gloria di questa città e di questo noi della Lilt siamo orgogliosi. Noi siamo impegnati su tutto il fronte ma in particolar modo per la lotta al tabaggismo. Questo sedicesimo ci dovremo impegnare ancora di più perché i nostri dati degli ultimi due tre anni non sono incoraggianti, c'è un ritorno al fumo soprattutto tra i giovani e questo ci preoccupa. Uno studio dell'ASL Napoli 1 si è occupato dei messaggi che internet veicola a proposito della sigaretta elettronica. Analizzati 221 siti per due terzi testate giornalistiche, i ricercatori hanno riscontrato una significativa incidenza di messaggi falsi o suggestivi o privi di consistenza scientifica. Io a un giovane direi di non fumare perché il nostro progetto mira alla prevenzione del fumo. Noi ci rivolgiamo alla fascia di età che va dagli 11 anni ai 18 anni. Il pericolo è proprio questo, è che il ragazzo possa convincersi che la sigaretta elettronica è innocua e quindi iniziare a fumare la sigaretta elettronica. Mentre invece se un valore può avere la sigaretta elettronica per quelle persone che fumano molte sigarette e non riescono in nessun modo a smettere, allora là come male minore si può prendere in considerazione. Ma se passa invece il messaggio che la sigaretta elettronica è innocua, cosa che non è assolutamente vera, allora c'è il rischio anzi che si aumenti il numero di ragazze che fumo e questo assolutamente non va bene.